Ciao, un mondo fissuto, e ci avremo le fasi, con Stefania, in termina... CELENTO! E' un mondo... tu! Oh, ma che meraviglia! Avete mai visto un vestito così bello? E guardate, scarpetti di cristallo! Oh, ma è come un sogno! Un sogno meraviglioso di venuto in realtà! Eh, sì, mia cara! Ma come tutti i sogni, beh, ho timore che non potrà durare a lungo! Solo fino a mezzanotte, e poi... Mezzanotte? Oh, grazie! Aspetta un momento, non dimenticarti, piccola, che a mezzanotte è precisa, l'incanto finirà, e tutto tornerà come era prima! Oh, sì, capisco! E' molto più di quanto usassi ste... Eh, io ti benedica, cara! E ora? E' uno stuccio! E' del faglio! Per chi? Bello ce lo fai! Si galla她 portare? È solo tante! Eх sì! E io ti ho tra il dico! È il tympano e 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 il tympano! Grazie.